Ciao ragazzi, benvenuti sul canale PG Passione Games. Riprendiamo la serie di FIFA, me ne sta sincronizzando, con la carriera con i Leoni di Inghilterra, ovvero il Sunfall City. Ora appena appunto ci connettiamo al server di eSport, vediamo un attimo a che punto siamo. Oggi faremo un video che comprenderà almeno due partite giocate e una partita o due simulati. Vediamo un attimino perché si fanno le partite simulati, perché ragazzi io voglio arrivare quanto prima almeno di salire di categoria. Siccome appunto il campionato inglese anche di quarta serie è molto molto impegnativo, nonché lungo, ovviamente ci vuole la vita di un uomo. E allora sostanzialmente ho detto, messaggio sì, vabbè. Sochi risponde, non lo so, si siete nei sociali, non pronuncio più grandi nomi e caccio, vabbè. E appunto, altrimenti ci vuole la vita di un uomo per poter ambire almeno alla terza serie. L'obiettivo è quello di andare a portare il South for City in Champions League e giocarsi la Champions, poi vanno in Cellona e Juventus, qui si chiama Piemonte Calcio ma sempre Juventus è, e poi battere le squadre inglesi tipo Arsenal e perché no anche il Manchester City e il Manchester United, e quindi fare i derby ampliati, i derby di Manchester ampliati. Sto sognando? Molto probabilmente sì, perché la vita è, diciamo, fra virgolette, è la vita, la storia sarebbe molto lunga. Vediamo un attimino intanto dove siamo arrivati, intanto vediamoci la formazione che non è, anzi non la formazione, scusate, e dunque, 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 ritorniamo, ecco la classifica, qui, se noi si guarda la classifica, eccoci qua, noi siamo sempre sedicesimi, insomma, non è che siamo proprio un C, ma però con 14 punti, la prima molto lontana, c'era 29, il Manfieldstown, insomma, ha vinto 9 vore, 2 pareggi, ma comunque noi ora giochiamo contro il Watzel, che ha 14 punti con meno, quindi è uno sconto, tra virgolette, tra la quindicesima e la quattordicesima. L'obiettivo è quello di arrivare nel giro di breve, almeno nella parte alta della classifica. Bene, torniamo indietro, questa partita la giochiamo, ovviamente, la giochiamo e avanza. Intanto, appunto, mentre carica, ragazzi, vi invito a iscrivervi al canale, ora sembra quasi l'imposizione, però, mi invito a iscrivervi al canale, e poi a iscrivervi al neogruppo FIFA Spam che ho postato, che ho creato su Facebook, perché, come si chiama così, perché nei gruppi di FIFA che ci sono su Facebook, è quasi impossibile postare un video di YouTube. Allora mi sono detto, creo un gruppo dove uno può postare cosa gli pare. Non ho avuto un grande successo, e quindi vi invito a iscrivervi anche a questo canale. Però, bando alle ciance, vediamoci, noi giochiamo in trasferta, va bene, loro va bene, se no non ci si capisce nulla, squadra, ragazzi. Allora noi giochiamo con, fermando, Han e Wilson in attacco, che hanno fatto un partitone nella partita contro il Forest Green, la puntata precedente, non so se vi ricordate, e quindi appunto io l'ho confermato anche a Han, che ha fatto la sua prima doppietta. Bene, intanto qui il solito, diciamo, allenamento inutile, almeno lo ritengo tale, e pioggia, quindi campo pesante, se può andare bene e come può andare male. Vediamo un attimino. Bene. Ovviamente. Dai. C'è questo problema. Allora, FIFA ha questo problema. Il server non mi permette... Ma non è vero, sto dicendo delle cazzate. Ah, scusate, non si dice le parolacce. No, stavo guardando appunto, ero un po' interdetto perché vedo che, e questo non succede con PES, eh. Per chi segue i miei video, io ho fatti forse i PES che diffida, non... No, non succede appunto che va a scatti mentre registro. Ora, mi sembra che sia migliorato. Tanto appunto anche qui si sta giocando a una volta sola. No, ho sbagliato il tasto io. Ho sbagliato il tasto io. Tempo da l'ultimo. Eh sì. E' un po' complicare la vita delle due squadre in campo. L'equilibrio delle formazioni è compromesso... Assisteremo più a raggiungere a giocate palaterra, a distezione del campo. Ah, che buca! E' un po' complicare la vita delle due squadre in campo. E' un po' complicato. 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 Comunque ho provato, ma oggettivamente non mi sono molto trovato. Ho preso una caterba di gola contro un ragazzo che oggettivamente non portava rispetto. Io, è vero che fa schifo il... E fa schifo il Make Lab perché c'è tanto... Però, secondo me, dal punto di vista online è molto più divertente. Poi, mentre di FIFA io credo che sia insuperabile la carriera. Molto meglio rispetto alla Master di PS oggettivamente. Basti vedere questa carriera che sta facendo. giusto fuorigioco. An Eli in fuorigioco. Non capisco perché va ogni tanto a scatto. Pure, diciamo, la connessione è ottima. Ancora. Stiamo trovando difficoltà. Anche se, ovviamente, siamo un'ottima si domina. per andare. Faccio per andare. Vediamo cosa ha paura. Può ricevere la posizione interessante. Ragazzi, è un po' maluccio. Forse non... sì che... Sì che... Anche noi non si sta giocando un gran che bene, ma io mi sto più che altro preoccupando sulla qualità del video. Ora, noi stiamo usando un HD, come appunto, ma grazie a tutti i miei video, che segue i miei video, appunto da... da una... i miei video che stiamo... registrando... registrando... solamente questo qui. Ragazzi, sta giocando malissimo, eh! per centuali di possesso palla che si equivalgono... dato... riflette le... cosa c'hai? nessuno... nessuno delle due squadre... fuori gioco. Ma perché fuori gioco? l'impressione è che servo una giocatta, un episodio... Ah, bene. Qui abbiamo... forse... siamo ritornati un po'... a differenza di... della partita precedente. Eh sì... su... Sbagliato Pupo Tastoli, ragazzi. Io ho sbagliato. Questa partita proprio se la vince, ma eh! Stiamo 0-0 dopo 42 minuti. Pupo brutta, veramente brutta partita. Allora. Ma cos'è? Ah... Ah... Ma cos'è? No! No! Che errore! Che errore! il primo tempo veramente squalido. Speriamo nel secondo. È infatti finito il primo tempo. Bruttissimo! Io però do... Diciamo... Do... Come posso dire? Do fiducia ai due giocatori che ci ho avanti. Ovvero... Soprattutto a Han. Però le partite degli altri non le guardiamo. A Wilson e Han gli diamo fiducia. anche perché vedo che sono un po' stanchi, eh. Però diamo di fiducia perché sono sicuro che Wilson e Han si... Non capisco perché fa così. Bravo! la qualità del video? Bravo! è il segnaccio! Non è possibile! Sotto! 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 E' il pallone! Passa! Bravo! Quelli si sono tutti! Ma lo devo tirare? Faccio passaggi. Ma lo devo invece faccio passaggi? bravo! E' con questa la palla! Oh! Un bel tiro! Viene finalmente che sia un tiro! Bravo! ricevere la posizione interessata! No! Che errore! Facciamo il primo cambio perché forse ne abbiamo bisogno. Siamo al sessantesimo e non si sta ancora vincendo. Quindi si sta un po' interrompendo diciamo la striscia positiva fatta di 4-5 vittorie. E questo potrebbe rallentare la nostra marcia. bravo! Eeeh... D'altra parte si è incontrato forse in un avversario piuttosto. Ma e noi si speriamo tanto, eh! Eh! Regalo guarda gli avversari! Sì! Bravo! Wilson! Wilson! Vado qui a sbarcare! Sì! 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 All'65esimo siamo riusciti a segnare con chi è? Il tempo è lui! Lo ho detto! Bisogna tenerlo! Hann è un bomber! Hann è un bomber! Oh! Finalmente! Veramente! È stata dura però ci abbiamo riusciti! Bella azione solo! E Stum! Lecciata! Quasi a mezz'aria tra il portiere e il 7 e siamo 1-0 per noi! Partita molto molto dura! Però! Cerchiamo di farsi più sicuri! Però non mi sta piacendo oggettivamente come sta registrando! non mi importa se è Puntuale qui in riflessione! Ah! Bravo! Questo è un bellissimo gol! Questo è un bellissimo gol! Sempre lui! Sempre lui! Sempre lui! Questo mai ha preso il posto dei... Ma... Cioè... Ragazzi... Questo è stato doppio passo vale finta e... Boh! Quella va! Che lecciata ha dato! 2-0! Mazza! Bellissimi! 2-0! E guarda! 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 Diciamo! Il transgender mister del Southford! 2 gole! Han dovrebbe essere 2! 4 gole! Praticamente questa è la seconda partita titolare! 4 gole! È il nostro bombe! Mi sa che... bisogna... Siccome si è speso un'area di soldi tra George e Harrison è bisogno di mettere un caldo! Quindi... Recupera la palata! Siamo svegliati! Via! Facciamo un altro cambio! Questa è una bella lecciata però si tira sempre da fuori non si riesce... e il portiere è stato veramente bravo a prenderla molto molto bene! E' una bella lecciata! E' una bella lecciata! Manca sempre meno al termine del match ritmo che è molto calato questo è un po' portiere! E' una bella lecciata! E' una bella lecciata! E' una bella lecciata! Per perdere tempo è normale in questi casi capisco però la frustrazione del pubblico di casa! Wilson! Ah! Ah! è un po' un po' spesso inizio! Ah! Ma proprio che va a scassare! Oddio! Mamma mia allora ridicoli! No! Anche no! Incubo che i difensori hanno un po' un giocato due gol due tiri due e due tiri in porta! Si capisce perché un vero e proprio incubo per la difesa avversaria eh no eh abbiamo scoperto il giocatore che sta facendo un po' te sponda Ottimo l'avventura di difensori che ha un po' 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 da bocciare perché peccato abbiamo una una connessione comunque vediamo dai vi ricordo che questo video comprenderà oltre a questa partita un'altra partita e poi addio e poi una o due situazioni in un raccino in maniera tale che siamo andati un po' avanti a riconquisto l'avventura 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 insomma gioca più di sponda via 180 secondi alla fine l'avventura l'avventura oggi non è lui va bene non è un problema dai siamo abbiamo trovato comunque un giocatore abbiamo vinto 2 a 0 l'importante era vincere siamo riusciti a spugnare anche questo campo vedete chi fissi ecco lui l'ha salutato ok si sta salendo appunto di 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 quindi di 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 indietro il addio cosa sta succedendo pazzisce allora interviste dopo partita allora qui i risultati tanto la prima squadra i forestry ma li perso in casa poi ovviamente ecco l'intervista questa è una cosa come inutile fatta così di questo gioco non è inutile perché allora il caldo è stato potenzialmente risultato in questa vittoria con una doppietta comunque è esagerato vediamo un po' come è così è stato straordinario si è molto contento ha giocato veramente bene infatti abbiamo preso ora però lo affiancavo con Martinez scontento pensare di vincere questa volta le informazioni non è nello stesso livello la vigilia mi aspetterò sempre di vincere la mia domanda è con quale scarto accidenti come se è importante io vittoria cominciare è piaciuta la spessione della squadra ovvio ora della squadra io devo asserire tutto possiamo fare ora che dovevamo pensare scesi in campo per vincere non mi treva troppo della squadra siamo già con la testa la prossima partita ragazzi stiamo veramente grazie per qui grazie prego tornerò arrivederci ok vediamo un attimino ora abbiamo salito di tre punti vediamo la classifica quello che mi interessa è questo siamo tredicesimi ragazzi si sta avvicinando ai primi posti ora non so come funziona se le prime due vanno dirette la terza fa gli spareggi però tanto è ancora presto perché facciamo un'altra partita quindi vediamo un attimino che c'è i giocatori intanto un'altra partita che oggettivamente io mi trovo sempre contro Cambridge Cambridge che è in che situazioni di classifica si trova vediamolo un attimino io lo vedo Cambridge come in testa no invece no Cambridge è più giù di noi è più giù di noi ecco è l'ultima è fra l'ultima ok perfetto quindi dovrebbe essere si gioca in casa dovrebbe essere una partita allora io volevo come vi ho detto prima volevo con la maglia nostra volevo gestione della squadra volevo cambiare volevo mettere al posto di Wilson far giocare lui quindi Jackson e poi e poi confermare il resto ovviamente come si fa a togliere il ram questo segna a ripetizione come fare quindi è impossibile allora come vi dicevo prima ve lo ridico giusto per ricordarsi mentre sta appunto stiamo aspettando del caricamento del eccolo ragazzi anche nel dicevo mentre era divertito a fare un po' l'allegamento oh il tempo un pochino migliore quindi campo meno pesante possiamo giocare contro Cambridge e dicevo appunto dopo questa partita ne esegneremo due quindi così abbiamo fatto con questo video quattro partite e così appunto anche il prossimo episodio che registrerò giovedì prossimo quindi ora magari vi darò un attimino magari farò un video in cui così a titolo informativo cercherò di squadre con il peggior attacco il Cambridge è il peggior attacco quindi questa dovrebbe essere una partita dicevo appunto farò un video dove magari nel come posso dire vi indicherò quelle che saranno più o meno poi scampso diciamo di altre altre imminenti o altri impegni che magari possano quali saranno appunto le giornate dedicate ai vari giochi e che appunto carico abitualmente alle varie serie quindi ma di solito i pez che ha più serie le distribuisco diciamo durante l'arco la settimana mentre FIFA che oggettivamente ha due serie una è finita ma molto probabilmente la riamplo quella di volta e poi c'è la carriera le inserisco tra il giovedì e il venerdì comunque poi magari farò un video per poter dargli delle indicazioni più precise per chi magari che ne so ha interesse a seguire queste serie ecco mi sembra che ora il video sia caricato un po' meglio molto probabilmente FIFA ha questo problema e non lo so almeno vediamo tanto questa partita va vinta va vinta no è discutibile abbiamo lo stesso discorso non lo so mentre si gioca peccato perché sì è stata decida è stata decida valore feo sul non lo so non è una idea non è una idea non è una idea non è una idea si vola il direzione parai 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 dallas buona c'è il giocatore si chiama dallas su tanto sentite ancora il mio canino ah ah sotto le gambe regalo la palla di avversario cazzo l'hanno un po' di difficoltà bravo la campi io sono i giocatori giocatori giusto qui ci vuole un'inventiva di Anna ah, ha un legame ah, ha detto ci vuole il tutto quello di Anna eccolo che sassata di Anna deve essere lui sì, è lui guarda che sassata lui c'ha un tiro fantasma ha alzato anche la zolla di Anna bravo il portiere sì, c'è arrivato ma è passato sul portiere questo no, che errore che errore che cazzo si è proprio fatto un errore di quelli madornali dai, su mamma mia come mi fa schifo ovviamente è giunto perché no ah, peccato non si sta facendo un'altra un po' così modesta modesta posizione riprendi è una subattere no no fuori gioco, ragazzi, però fuori gioco Jackson ma il libro? rischia di strascinarsi stancamente sulla 0-0 se non succede qualcosa serve un episodio eh, ragione avanza una cosa al piede no mamma mia no sarà battuto dunque un calcio di punizione controllano molto bene il possesso del pallone niente, non siamo riusciti a usare è un po' che... però... perché fa questo? ragazzi, loro come gol non ne fanno mai, non ne hanno mai tirato, però anche noi... ti hai fatto schifo vediamo un po' il... lei, come questo, ma sono già la prima, eh il Manfred 0-0 ora cominciamo un po' a vedere anche la... che ovviamente cercando di vincere cosa fanno nell'altri perché noi siamo partiti un po' con il gap poi... diciamo... un po' il gap, diciamo... e... e... siamo ancora ancora là vieni bravo 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 arono oh vedi siamo riusciti oh qui è? sempre lui sempre lui sempre lui sempre lui sempre lui sempre lui una bomba è un bomber ho fatto una bellissima cosa veramente è stato bravissimo mamma mia che gol che gol si è girato e poi oh finalmente a quinto e questo è la quinto gole ragazzi questo è un bomber questo ce lo chiedono questo ce lo chiedono se avete visto il video all'inizio della serie avevamo grossissimo con la malta non si riusciva a fare gol con i vari i vari giocatori d'attappo non facciano gol poi ora questo è Jackson è una giocata però lui deve essere titolare ci è costato una vita diciamo una vita di lavoro troppi sordi 700.000 euro per un giocatore di quarta categoria è veramente come se io prendessi un giocatore della serie D lo pagassi così tanto questo deve fare gol a grappolo è vero che veniva nella categoria superiore però insomma il coreano però sta facendo passaggio la dimentica palla regalata agli alzai tratta agli alzai spazio si non è un'invità scassi precisi bei con i compagni si pretendeva un cambio tutte le partite molto tirate però oggettivamente un'altra vittoria sarebbe molto molto importante facciamo il cambio tanto passano ed entra il biondo col codino il sosia di Cristiano Ronaldo Davas bravo 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 oh ecco questo è veramente un gol di spinta che è questo Jackson anche Jackson poi perché Jackson si Jackson ha fatto un bellissimo gol bellissimo gol perché ha spinto con il petto si è portato avanti e poi guarda guarda vedi il petto e poi è riuscito a veramente bravo 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 gol questo che il tv ha fatto 4 gol anche lui ragazzi si sono svegliati i bomber e oggettivamente siamo riusciti a salire perché tutto sommato continuo a non avere questi problemi non la capisci ma la consente avversari Palla puntata via Può rispondere la posizione interessante C'è il rischio del direttore di gara È offside Duello tutto di forza Difendere per le comparabietà Non state il prezzo No Il difendore è che sta c'è la Recupera basta Succedimento interessante Azione che non sortisce alcun effetto E c'è un cambio in arrivo per la squadra off C'è bisogno di energia, di forze fresche Credo sia il momento giusto Ragazzi Di nuovo Jackson Vedi, bello Dal tiro E ottima la parata del portiere volato Un po' plastica Un altro cambio Dei nostri Entra il numero 8 Esce Gibson Ed entra lui E gli sta dicendo Vai là Mi raccomando Ho fatto solo con FIFA 19 In una semifinale Di champion No? Cosa sono questi rimbalzi? A spazio per il cross Cross controllato Senza problemi Ma non è uscito Sarà l'impio d'appunto Che cazzo Due Muti Tre tiri Tre tiri fuori Ha fatto una maledina Siamo già sempre Solo prima Si riusciva a fare Anche tre o quattro E ora Non si riuscano più Forse Il livello Siamo in Italia Agli ungemi Dieci minuti Vedeva Bellissimo 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 Veramente Chi l'ha fatto? Oh gol veramente è stato bellissimo volo risultano solo così bellissimo cross bello 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 il più bel gol che ho fatto diciamo da quando gioca prima come organizzazione bello veramente bello bellissimo colpo di testa che è questo? Anno? guarda ma lui come esulta si è ancora lui doppietta va avanti a doppiette va avanti a doppietta ragazzi fenomeno grazie oh non mi ha piegato le mani peccato vediamolo bravo occhio al pallone in mezzo è difficile ci stiamo accingendo a vincere la seconda partita consecutiva e quindi a salire di in classifica abbiamo vinto ok ragazzi abbiamo vinto ora vediamo il fulbito c'è l'intervista sono da appunto palla dell'intervista che come sapete chi vede i miei video non mi piace non si dice a me non piace perché non è parlata e no poteva avere un qualcosa di diciamo più coinvolgente comunque vediamo c'è l'intervista ok allora veramente Anno ormai è puntualmente il migliore ecco vediamo intanto Manzertown abbattuto quindi questi vincano noi bisogna puntare a arrivare al playoff abbiamo perso troppo terreno davanti però Savo si 3-0 contro il Cambridge vediamo se amici due esagerato An è stato protagonista saluto in questa vittoria con una doppietta come giù da sopra e questo fa gol tutti i giorni è stato straordinario vai è agito davvero bene non ho parole ha giocato veramente bene effettivamente è vero però anche se poi sono sempre le soli di fare vediamo un match più privato anche lei stessa l'avviso no no assolutamente vediamo cosa mi dice è troppo sempre spide proviamo un video senza troppa fatica dovremmo alzare le vostre aspettative nei nostri puntori si era visto all'inizio anche oggi c'era una sola squadra al campo è vero ora l'ho fatta porfù contro il cosiddetto della squadra se non crede che sarebbe potuta finire diversamente oggi ma che domande sono pensiamo alla prossima partita e via ok dai quindi c'è molto molto felice quindi sarà veramente un puntero sì ciao bello ciao bello bello non so chi è allora come vi ho detto più volte durante il video noi ora andiamo avanti intanto vediamoci la classifica siamo undicesimi intanto si riesce a essere nella parte tra virgolette superiore siamo undicesimi no siamo sempre inferiore quindi con undicesimi con 20 punti undicesimi insomma è buono noi puntiamo al 27 c'è sempre un po' ora si gioca contro il il vediamo diciamo due simulazioni come vi dicevo giochiamo di sabato cosa garantisce non so come contro il not found il not found intanto però vediamo cosa ci chiede l'ufficio osservatore ilan dilon la ricerca di portogallo sa per cui non credo sia uscire ah beh tanto si sapeva il budget è veramente ridicolo quindi allora gioca partita simula partita questi si gioca con wilson no si è rimesso wilson vediamo cosa succede riscaldamento si gioca fuori ai 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 abbiamo perso porca miseria è spulso anche no e quindi niente abbiamo perso questa partita ragazzi d'altra parte vanno fatte anche le simulazioni io e adesso non siamo più undicesimi siamo sempre undicesimi però troppo adesso questo è il big match ragazzi questo è il big match contro il primo in classifica io direi di giocarla posso non giocarla eh sì questa va giocata ragazzi questa va giocata e quindi invece di fare la simulazione si farà dopo un'altra simulazione perché questa va giocata noi si gioca in trasferta noi sono gialli e mi va bene e noi bisogna mettere in campo sì perché io vorrei giocare con con lui e quindi eh ragazzi io avevo detto che faccio la simulazione però va giocata questa partita qui va giocata anche se il video sarà un pochino più lungo perché contro i primi della classe vanno battuti anche perché eh a livello di orario si comincia a essere un po' bene il pulsante per giocare questa partita appunto va vinta abbiamo perso quella simulata precedente e purtroppo giochiamo contro il Man City Town Copland campionato mi dà fastidio qui c'era in casa di loro nella classe c'era un campo molto meglio ah vediamo vediamo qualsiasi di campo è un po' se schierano il campo con il 5-3-2 il tecnico non voglia scoprirsi troppo almeno all'inizio bisogna capire quali sono le sue reali intenzioni molto veloci oh no peccato peccato ragazzi yeah book book si schierano in campo col più classico dei 4-4-2 4 difensori 4 centrocampisti e due punte che devono reggere il peso dell'attacco credo sia scelta condivisibile da parte dell'allenatore modulo si sta giocando fantastici senza sacrificare la fase offensiva palla verso il compagno bravo qui a sbarcarsi mi ruba benissimo al pallone tu va via situazione fuori giochi si pronuncia una bella che sperano di interesse piuttosto assistere alla fuoca solitaria di una cosa fa da seguire il giocatore da più grande condizioni vivi di attrazione di questa spira il giocatore è una velocità di base notevole è bravo a prendere in contropiede le difese con le spiace e la zia di panaltiere c'è il giocatore più droni di passaggio e più stanno palla anche quindi termine di pezzoletto Il centrocampo non chiude più. Bravo. Passaggio così così. No. Go. Che go sul calcio d'angolo, non ci credo. Go sul calcio d'angolo. Il portiere ha fatto una paperata Grandi, grandi, grandi Rivediamo sto gol perché è veramente una paperata Ok, dai 1 a 0 per noi Bobby, gol, autogol Nome, cognome pronunciabile Eh, si è fatto con nessuno Va bene Ma il video fa veramente schifo Avete ragione Ma il gioco, è il gioco Anche se è il gioco Non possiamo Deludervi E' la posizione Vediamo cosa inventa ora Palla che viene rilanciata in avanti Ghiiia Pallone perso Bellissimo gol Verso veramente un bel gol L'ha fatto? Ah, che vuoi sia Bello questo Sì, certo Sette gol Ragazzi Questo via è un bomb Ogni partita fa un gol Il primo tempo si vince 2 a 0 Faccio finirlazio Faccio finirlazio Bellissimo E' un bel gol E' un bel gol E' un bel gol fallo non fischia mai giusto perché mai ho fatto diversi video ma perché veramente fa schifo ex la manovra mamma mia che go ha fatto jackson che go ha fatto jackson mamma mia mamma mia palla al piede questo è veramente bello è pagato 700 mila euro però oggettivamente ha fatto cosa le pareva a lui vedi poi così scattato tutti diciamo primo cambio e anche contro la capolista si sta vincendo 3 a 0 e quindi si sale quinto gol adesso ok allenatrice ma allora è un allenatrice e inserisce un altro difensore per blindare il risultato beh direi un cambio conservativo preferite coprirsi per diventare vantaggio che non è la spiglia che non è la spiglia bravo qui il difensore che legge bene questo pallone sono cinquanto tesi non ce sa che d'è mmm mmm bello ottimissimo grande gol questo è il verbo questo chi l'ha fatto non lo so ma sono veramente bella l'azione e si stanno spapolando si stanno spapolando si stanno spapolando veramente chi è? ma sempre lui mamma mia è sempre lui mamma mia è andata doppietta comprensibile molto elegante il misto a ieri gol al 62 8 gol buona complimenti allora diciamo che si stanno ripresi beh no cosa volevo fare volevo volevo che si riuscita a scattare il portiere invece no 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 capito lo vede recupera bene il pallone il pubblico di casa sembra quasi rassegnato di fronte a questa partita per come sta andando la partita ma passa ben poco da festeggiare vediamo cosa fa ora ma non è di là ma tu che fumo sono bene quei difensori attenzione no eh sì è per lui ma qua di dirà fatto una marea sì qui stiamo avviandoci all'ennesima vittoria quindi su quattro partite abbiamo fatto tre vittorie nella sconfitta una sconfitta nella sua relazione e oggettivamente andava a sei tiri grazie questo video contro la prima della classe non potevo non giocare quanto c'è ancora da giocare si giocherà per altri 15 minuti prima del novantesimo grazie può avanzare a spazio ottimo recupero del pallone bravo bravo fuori gioco hunter via con jergis facciamo entrare jergis questa maglia diciamo della squadra di casa mi sembra quella della juventus a tempi di bone che fatemi c'è una maglia giaglia con le le spallette e i bordini azzurri anche i pantaloncini la juventus e le poveri via la loro intercettata senza problemi ma la consegnata gli avversari ho già mi sembra molto alto hai messo da lui mamma mia bravo era quello che si aspettavano tutti qui a Bordocato Pier ecco il quinto ecco il quinto ecco sempre lui non ci credo è da tutte le parti è da tutte le parti è da tutte le parti ragazzi è da tutte le parti guarda per tripletta ma ma c'è è da tutte le parti guarda cioè è da tutte le parti abbiamo veramente strapazzato la prima della classe ma soprattutto è da tutte le parti questo ora è il nonno goal goal nella esatto questo poi mi rievo le mani ma questo è che sono parte che c'è un contratto abbastanza ma chi lo vuole deve pagare finito abbiamo vinto 5 a 0 in caso della prima della classe veramente una partita a senso unico gli danno il pallone gli danno il pallone assieme a tre gol veramente la prima volta la tripletta per questo giocatore ci ho visto bene all'inizio ha fatto un po' schifo però poi dopo oggettivamente anche lui 10 per forza ok allora ragazzi vediamo un attimino possiamo scrivere veramente forte ora c'è la solita intervista inutile abbiamo giocato veramente molto 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 bene ma è morale è sempre così è un esempio per tutta la squadra difficile trovare il giocatore così un'azione disciplina oggi è stato devastante è vero ci aspettiamo un match più giocato oggi anche lei è il senso appiso no no siamo forti sfide abbiamo vinto senza noi ovviamente senza le vostre aspettative è vero ovviamente non è che siamo una grandissima squadra però si sta un attimino uscendo crede che no 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 non abbiamo concesso una squadra in me avremmo segnato un altro paio di reti quello è vero però oggettivamente oggi abbiamo fatto una grandissima partita ragazzi ora facciamo un'altra simulazione e poi chiudiamo questo video che forse è durato anche un po' troppino però oggettivamente noi siamo undicesimi come di tre punti siamo sempre a metà classica è che ci abbiamo contro il shock timber il shock timber vediamo un po' dove è ora si comincia a giocare con le squadre di testa è dietro noi quindi spero di vincerla questa partita simula qui gioca Wilson infortuni squalifici il scaldamento dei giocatori vediamo cosa succede tu a zero e vai chi ha fatto gol hai Han e Wilson quindi il decimo gol di Han quindi ragazzi io con questa vittoria vediamo dove siamo arrivati il sefano siamo noni a 26 punti se non dice di mandarlo notifiche vediamo se dice Elliot non gioca più è vero sta attraversando più il morire del formato ultimamente mi sento molto e mi mando in banchina contro la squadra al manzo niente mi sono rimasto maldi che non avevo giocato so che la decisione finale di lei ma se non dice di mandarmi in campo più spesso sono curiosa di pensare al mio futuro qui vai tranquillo le richieste sono fuori ok ok ma bisogna delle partite che conto dunque non preoccupate vi lascio fuori qualche volta ok questo chi è tower si sono vicine ragazzi questo sono decidi di mandarmi in campo più spesso potete finanziare il mio futuro qui questi vogliono giocare tutti ragazzi vediamo un attimino vediamo un attimino dove siamo siamo in nona posizione il mazio non c'è più ma prima il choster facciamo un'altra partita simulata e poi basta così si chiude abbiamo fatto una cinque sei partite che va bene dai chi si gioca il new sport new sport che è si gioca fuori casa il new sport è in cima sotto non lo vede ecco in realtà un new sport counter in tunese quindi visa vince ragazzi simula partita allora vai simula partita ante wilson gioca wilson sablontola vai va si è vinta anche questa 2 a 1 e ha fatto gol wilson perfetto armo di loro e poi corral ok questa volta non ha segnato an però ha segnato wilson quindi è contento siamo a posto allora ragazzi rivediamo la classifica siamo a 29 punti non in classifica io direi di salvare qui ok 30 maggio 22 vai e mettiamoci questo ok salviamo quindi ragazzi io direi finiamo qui il nostro video vi invito a iscrivervi al canale e se vi è piaciuto questo video mettete un like ovvero un pollice all'insù e poi cosa importante commentate fate commenti lo dico ai amici Gabriele lo dico all'amice Daniele insomma tutti quelli che di solito mi commentano i video perché le commenti nascono poi delle riflessioni sul quale poi magari nel video successivo possono diciamo si può trarre delle delle importanti come posso dire delle importanti considerazioni e indicazioni ragazzi io vi saluto e questo video è stato forse un po' troppo lungo però era un po' che non giocavamo a FIFA e per quanto riguarda FIFA 10 FIFA 20 scusa la carriera con il Salto City ci rivediamo giovedì prossimo un saluto